Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e di lasciare un mi piace, grazie. Nella recente puntata di Storie Italiane, la trasmissione ha affrontato nuovamente la questione legata all'eredità di Gina Lollobrigida e il processo di Andrea Piazzolla. Tuttavia, la puntata ha anche presentato aggiornamenti sulla tragica strage di Mestre, avvenuta di recente. Questo incidente ha portato alla morte di ben 21 persone, quando un pullman che trasportava agli ospiti di un campeggio è precipitato dal cavalcavia Alda Deusanio. La padrona di casa ha quindi chiuso la puntata di giovedì con i consueti saluti e ringraziamenti. Tuttavia, poco dopo l'inizio della sigla con la canzone Storie di tutti i giorni, di Riccardo Fogli, Eleonora Daniele ha interrotto la regia e ha chiesto di togliere la sigla. La conduttrice aveva un ricordo importante da condividere. Ha ricordato che nella giornata in cui si trovavano, si celebra il ricordo di Norma Cossetto, una giovane studente seistriana. Nel 1943, Norma fu torturata e gettata in una foiba, diventando una delle vittime della guerra. Eleonora Daniele ha sottolineato che molte donne in quegli anni erano state catturate al posto dei loro congiunti, usate come ostaggi o per vendette personali. La conduttrice ha sottolineato l'importanza di parlare di Norma Cossetto e di ricordarla, poiché rappresenta una delle milioni di vittime della guerra. Continuate a seguirci iscrivendovi al canale e attivando la campanella delle notifiche, grazie a tutti per il vostro supporto, è molto importante per il nostro lavoro. Arrivederci.